C'è iniziato bene il giro di ritorno del Parella, adesso bisogna proseguire per continuare questa striscia positiva. Sì, abbiamo fatto già più punti rispetto al giro di andata, un buon segnale e adesso incontriamo una squadra molto forte e vediamo se riusciamo a proseguire. Ci sono tutte le intenzioni per andare a fare una gran partita. Una vittoria vorrebbe dire anche accorciare in classifica, ma sappiamo che più che i punti interessa la prestazione. Che cosa chiedi ai tuoi? Ai ragazzi la richiesta è quella di mettere giù la nostra migliore pallavolo, tutto quello che facciamo in allenamento e che stiamo continuando a sviluppare in partita, portare a casa una bella prestazione e perché no anche un bel risultato. Che cosa vi ha lasciato la partita contro Saronno? Ci ha lasciato un po' di rabbia perché potevamo sicuramente chiuderla meglio, ma ci ha lasciato comunque la consapevolezza che da un 3-0 dell'andata siamo riusciti a ribaltare la situazione e portarci a casa un non pulito, ma comunque un 3-2 importante.